Buongiorno, buongiorno, grazie, quanti auguri, buongiorno a lei, buon anno, per la storia, come dice lei. La storia, molto, che è un mio stefano, è stato bellissimo, con ora. Abbiamo le fontane delle tecciatine vaticaniche. Grazie. Grazie. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buon anno, buongiorno. Speriamo tutti. Appunto, sono di un buon impasto per 13.000 euro. Questa è per lei, personale. Questa è la medaglia che noi coniamo ogni anno per il Natale di Roma. Quest'anno è dedicata alla battaglia, 1700 anni. Costantino. Esatto, in Oxiglio Vinces. Grazie. 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 Grazie.